Salve a tutti, siamo qui alla Via dei Fori Imperiali, 2 giugno 2014, festa della Repubblica è appena terminata, il Presidente Napolitano è andato via sulla lancia decappottabile e anche Matteo Renzi è andato via, vicino a loro la Boldrini, Presidente del Senato Grasso e altri Ministri e Deputati. Abbiamo visto anche la Boschi in un bel vestito fucsia, una giornata di sole, sono anche passate le frecce tricolori, dopo mi sembra un paio di anni che non volavano, insomma che non volavano qui sulla festa della Repubblica, ci giriamo verso l'altro lato, regia, ecco il palco presidenziale è quello, vuoto, stanno passando migliaia di turisti e di altre persone che hanno visto questa parata militare, questa rivista. E particolare attenzione è stata data ai carabinieri perché ricorre il 200esimo anniversario della loro fondazione, avete visto la rivista? Vabbè, tutto a posto, avete visto la parata? Sì, sì. La parata, mi sembra piaciuta? Bellissima, una cosa incantevole. Da dove venite? Da Sardegna. Da Sardegna, sì. C'è stato pure il gruppo Piraz, Granadiere di Sardegna, no? Sì, 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 tutto. Benissimo, buon proseguimento. Sono anche un militare, grazie. Grazie. E quindi ecco, abbiamo visto anche le frecce tricolori, dicevo, passate velocissime, non abbiamo fatto neanche tempo a riprenderle e possiamo anche inquadrare appunto dietro il Colosseo, mentre adesso piano piano ce ne andiamo e cerchiamo di andarci a spostare, altrimenti la folla ci travolge. Grazie. Grazie.